Va bene, buongiorno a tutti ed eccoci qui a una nuova, la chiamerei esercitazione oggi, sul pattern model view controller che dovreste aver visto lunedì. Quindi cerchiamo di chiarirci un po' i dubbi se ce ne sono e poi vediamo di diciamo così tradurre l'esercizio indovina il numero che abbiamo fatto all'inizio seguendo il pattern appunto MWC. Poi ieri in laboratorio vi ho anche detto e per chi verrà oggi se volete già anche sviluppare il laboratorio seguendo questo pattern benvenga, non era esplicitamente richiesto ma benvenga perché poi lo utilizzeremo sempre da qui in avanti. Allora pattern model view controller di che cosa si tratta, quali sono le caratteristiche principali. Abbiamo visto che fare, scrivere dei programmi buttando tutto il codice dentro un unico file che per noi era il controller può far sì che poi il programma diventi illeggibile e soprattutto non manutenibile. Cosa vuol dire non manutenibile? Vuol dire che quando dobbiamo poi andarci a mettere le mani sopra, magari perché dobbiamo fare una modifica, dobbiamo aggiungere una funzionalità, poi risulta veramente difficile di stricarsi in questi mega file. Allora ci viene in soccorso questo pattern, che cosa dice questo pattern? Ci dice che è buona norma, buona prassi, disaccoppiare i nostri programmi tenendo separata l'interfaccia grafica dalla logica applicativa, quindi dal codice che gestisce i dati e dai dati stessi. Allora, un pattern non è una soluzione fissa e, diciamo così, definisce delle linee guida che possiamo seguire. In questo caso questo pattern ci dice che abbiamo tre elementi principali, la vista, che sarebbe la nostra interfaccia grafica, per noi è la finestrella di JavaFX, il modello che invece contiene tutti i nostri dati e tutto il nostro codice, quindi, diciamo così, l'intelligenza che avevamo così del programma, e poi c'è il controller, che nel nostro caso è l'FXML controller, che funge un po' da tramite tra la vista e il modello, ok? Quindi, ad esempio, noi ci concentreremo sulle frecce 1, 2, 3, quando l'utente fa qualcosa sull'interfaccia grafica, ad esempio inserisce un input in una casella di testo e preme invio, il controller reagisce a questo evento, recupera l'input e lo passa al modello. Il modello, con questo input, farà delle elaborazioni, aggiungerà questo input a una lista, a un set, eccetera, eccetera, e lo stesso controller, dopo aver delegato questa operazione al modello, informerà alla vista che qualcosa è cambiato, ad esempio è stato aggiunto, è stato fatto un nuovo tentativo, ad esempio, se prendiamo come riferimento il nostro, indovina il numero. Il concetto fondamentale è che ognuno di questi blocchi lavora un po' in autonomia, nel senso che, seguendo questo pattern, noi dovremmo, in teoria, poter cambiare, ad esempio, l'interfaccia grafica del tutto, senza dover toccare niente del modello, e viceversa, potremmo cambiare il modello, ad esempio, cambiando una struttura dati, perché ci accorgiamo che, usando la struttura dati X, è più efficiente, potremmo farlo senza toccare niente dell'interfaccia grafica e del controller. Questa è un po' l'idea. Allora, oggi vediamo come tradurre il nostro, indovina il numero, seguendo queste linee guida qui, ok? Per farlo, vorrei farvi rivedere come si importa un progetto da GitHub, probabilmente lo sapete già fare tutti, però, secondo me, partendo da zero, può esservi utile per chi ha ancora dei dubbi. Io ho cancellato dal mio PC l'esercizio che abbiamo fatto la volta scorsa, perché tanto era su GitHub, e lo vado adesso a importare da GitHub, d'accordo? Quindi, se qualcuno non sa ancora bene questa procedura, rizzi d'antenne. Sono su GitHub, sul progetto indovina numero in TDP 2022, fin qui tutto bene. L'unica differenza tra voi e me è che, ovviamente, io posso scrivere sull'organizzazione TDP 2022, o i permessi, e voi no. Quindi, il passo in più che voi dovete fare è cliccare su Fork, ok? Se volete fare il fork di questo progetto, che è quello che ho fatto io la volta scorsa. Se invece volete partire dal vostro, che avete già fatto, va bene, seguite solo senza fare niente. Però, se volete, potete cancellare quello che avete fatto, perché magari non era completo, o volete allinearvi con la soluzione, è fare Fork di questo, che è la mia soluzione della volta scorsa, ok? Io non faccio Fork, perché, ovviamente, ho i permessi. Dopo aver fatto Fork, potete clonare il repository e importarvelo sul vostro PC, sul vostro Eclipse. Occhio! Perché qualcuno ha fatto già questo errore, ha fatto il Fork, e va bene, il Fork che cosa fa? Crea una copia di questo repository nel vostro namespace, su cui potete scrivere, leggere, eccetera. Poi, per clonare il progetto dovete clonare il vostro, però, non quello in TDP, ok? Quindi, dovete copiarvi, cliccando su Code, il pulsantone verde, l'indirizzo HTTPS, questo qui, ma non questo qui, quello del vostro, indovina numero, che è stato copiato nel vostro namespace. Quindi, banalmente, l'indirizzo, al posto di TDP 2022, dovrà contenere il vostro username GitHub. Altrimenti, qual è il rischio? Voi vi clonate questo repository qui, e poi, quando provate a fare push, ovviamente lui vi dice, impossibile fare push, perché non avete i permessi, d'accordo? Comunque, l'unica cosa che cambia per voi è questa, io mi copio il mio indirizzo HTTP, vado su Eclipse, file, a questo punto non creo più un nuovo progetto, lo voglio importare, quindi import, project from Git, next, qui scelgo clone URI, quindi cloniamo un repository già esistente che prendiamo dal web, quindi clone, next, qui mi chiede la mia password del PC. Ok, di solito quando copiate l'indirizzo dal sito web di GitHub, Eclipse in automatico vi compila già tutti i campi, quindi siamo abbastanza a posto, vi chiede anche lo username e la password, in realtà non è la password, è il codice che avete, il token che avete generato, va bene, io ce l'ho già salvato, next, ci chiede che branch vogliamo clonare, adesso c'è solo il branch master, parliamo tra un attimo dei branch, ma lasciamo tutto così com'è, next, vi chiede la directory in cui mettere il progetto, attenzione, di solito questa directory di default, questa cartella, è diversa dal vostro workspace, ad esempio, a me, questo progetto verrà messo in users Alberto git, c'è una cartella git nella mia home, indovina numero, se volete potete anche metterlo nel vostro workspace, ovviamente, io mi trovo bene così ad avere una cartella git dove ho tutti i miei progetti che sono anche su git, ok? Quindi lasciamo così, next, next, finish. Lui si scarica il progetto e tutte le varie dipendenze, e se tutto è andato bene, adesso dovrei avere esattamente l'esercizio che abbiamo fatto la volta scorsa, direi di sì, va bene? Occhio perché da qui in avanti faremo sempre meno, farete sempre meno nuovi progetti da zero, ma sempre più clonare da GitHub perché vi forniremo dei progetti già un po' imbastiti, ecco, anche all'esame, ci sarà uno scheletro già fatto e non dovrete fare il new project da zero, ma partiremo sempre da GitHub. Domande, dubbi? Ok, se non ci sono domande iniziamo con la nostra traduzione. Allora, abbiamo detto, tre elementi principali, due li abbiamo già, il controller c'è già, dobbiamo sicuramente snellirlo un po', togliere qualcosa da qui e metterlo nel modello, la vista anche, ce l'abbiamo già, è il nostro file fxml, ok? Quindi qua non tocchiamo niente, ci manca il modello. Dove mettiamo il modello? Di solito è buona norma crearsi un package a parte, dove confluiranno tutte le classi del modello. Occhio perché per modello non intendo una sola classe, ma intendo tutte le classi che ci servono per gestire dati e logica applicativa. Quindi vado, mi posiziono sulla cartella source main java, faccio tasto destro, new package e mi creo il package per il modello. Convenzione, il package del progetto, quindi it.polito.tdp.indovinaNumero, in questo caso, .model, quindi it.polito.tdp.indovinaNumero.model. Mi crea un sottopackage, diciamo così. Benissimo, ora questo package è vuoto e lo andiamo a riempire. Lo andiamo a riempire, in questo caso l'esercizio è molto semplice, quindi in questo caso sì che avremo un'unica classe per il nostro modello. Faccio tasto destro sul package che ho appena creato, new, class, e qui posso usare il nome che voglio, ad esempio nell'esercizio che avete fatto col professore il vostro modello era la classe libretto. Nel laboratorio il modello potrebbe essere una classe dizionario. Qui non so, non ho un nome che mi venga in mente così, allora lo chiamo model, generico. Adesso sarà il mio modello. Adesso, come fa il controller a conoscere il modello e a agire sul modello? Sicuramente dovrà avere al suo interno un riferimento, no? Bene, allora nel mio controller posso prevedere un attributo privato di tipo model, chiamiamolo model. Questo è il riferimento con cui il controller potrà riferirsi al modello, chiedere al modello di fare delle operazioni. Devo importarlo perché sono in due package diversi. Mi posiziono sopra, import model. C'è solo lui e lo importo. Occhio con gli import, ieri in laboratorio me ne sono accorto, moltissimi degli errori che avete spesso sono dovuti a degli import sbagliati, perché, ad esempio, il componente label di JavaFX esiste anche in altre librerie, no? E quindi se importate il componente label o il componente textbox da un altro package, poi non funziona niente. Di solito il package che dà sempre fastidio è il package AWT, se vedete un package così nei vostri import c'è qualcosa che non va. Quel package lì non lo usiamo mai. Ok? Quindi occhio sempre agli import. Va bene, questo model adesso è com'è? È lì, buttato lì, ma non è istanziato, ecco. Lo usassimo, usassimo questa variabile qui, model, ci darebbe probabilmente una null pointer exception, perché a questo punto questo model è null. Dove lo creiamo questo modello? E vediamo se siete stati attenti alla lezione scorsa. Nell'entry point, ok. Perché io potrei anche fare una cosa del genere. Giusto? Oppure anche definirlo, se vogliamo, nel metodo di inizializzazione del controller. Ok? Funzionerebbe lo stesso. Qual è il problema? Il problema è che non seguiremmo esattamente le linee guida del pattern MWC. Ci sarebbe una corrispondenza troppo forte tra questo controller e quel determinato modello. Ad esempio, volessimo avere più controller, noi non potremo condividere questo modello, perché questo modello viene creato esattamente qui, solo qui. Quindi dovremmo fare due, tre, quattro new diverse, con il risultato di avere due, quattro modelli diversi. L'idea di un modello, invece, è di essere unico per un'applicazione. Quindi dobbiamo trovare un punto nel nostro programma in cui sia possibile creare un modello una volta, una sola volta, all'inizio, quando lancio il programma, e poi di questo modello farne quello che voglio. Questo punto è proprio l'entry point. Quindi nel file entry point, io qui all'inizio, per non saperne leggere né scrivere, mi creo un modello. Importo anche qui. Ok. Ora qui, in questo punto, ho un nuovo modello creato e istanziato. Adesso, però, non è l'entry point che deve conoscere il modello. L'entry point non se ne fa niente del modello. Chi è che lo deve conoscere? Il controller. Allora, dobbiamo trovare un modo di passare, diciamo così, questo modello che ho appena creato da qui al controller. E il modo più semplice di farlo è avere un metodo nel mio controller, un metodo setModel, no? Che riceva il modello dall'entry point e lo vada a associare a questo attributo qui, che per il momento è vuoto, diciamo così. Allora, io sotto tutto scrivo public void setModel. Riceverà come un parametro un modello, model, model. E cosa farà? Prenderà questo modello e lo associerà a this.model. Ovviamente queste variabili si possono chiamare anche in modo diverso. Io li ho chiamati model così per comodità, però possono anche avere nomi diversi. Chiaro? A questo punto torniamo nell'entry point. Qui abbiamo il modello, dobbiamo trovare il modo di invocare quel setModel lì, no? Qual è il problema? È che qui noi non abbiamo nessun riferimento al controller. Abbiamo questa classe fxmlLoader che al suo interno genererà questo controller, ma purtroppo non ce lo restituisce per come è scritto così il codice. Allora dobbiamo fare una piccola modifica che sarà sempre uguale, sarà sempre già fatta nei progetti che vi forniremo, però è bene capirne il funzionamento. Quindi ci serve in qualche modo recuperare un riferimento al fxml controller, chiamiamolo controller. Come facciamo? Beh, possiamo prendere un riferimento a questo loader e poi tramite il riferimento a questo loader ci facciamo dare il controller. Quindi io, al posto di chiamare direttamente il metodo load, mi recupero prima un riferimento al loader, colui che poi chiamerà il metodo loader e lo faccio generandone uno nuovo, new fxmlLoader e come, diciamo così, attributo del costruttore, gli passo il pathname del mio file fxml, che è esattamente questa riga di codice che trovo nel metodo load. Quindi ho preso quello che c'era nel metodo load e l'ho messo nel costruttore di fxmlLoader. Lo devo importare, no? Devo mettere un punto e virgola. Ah, forse qui è il classico esempio di... La L maiuscola. Ah, la L maiuscola, ok. Lo fxmlLoader. Perfetto, grazie. Pensavo fosse un import sbagliato. Adesso posso usare il loader per fare il load del nodo radice, ok? A questo punto non mi serve più specificare niente nella parentesi, perché questo attributo che c'era prima adesso l'ho utilizzato nel costruttore, ma oltre a fare la stessa load di prima, non cambia niente, posso a questo punto recuperarmi il controllore. Magari lo faccio verso la fine di questo metodo. Dopo aver creato anche la scena, posso dire che il mio controller è uguale a loader.getController. Vedete, tramite quell'oggetto lì riesco a recuperarmi l'istanza, l'unica istanza che è stata creata del mio controller, che è il mio file, fxmlController in questo caso. Va bene, avendo il riferimento posso passargli il modello. Controller.setModel. Tutto lì. Abbiamo fatto questi piccoli cambiamenti per, appunto, recuperarci il controller e potergli passare il nostro modello, che creiamo una sola volta qui. Se noi volessimo creare una nuova finestra, perché magari ci serve un'applicazione multifinestra, lo possiamo fare qui e possiamo far passare a questa finestra lo stesso modello, esattamente con questo trucchetto qui. Va bene. Abbiamo impostato il tutto e ora cerchiamo di andare a vedere esattamente come fare questa traduzione con il pattern model view control. Allora, partiamo dal mio vecchio controller. Abbiamo detto che il model conterrà la nostra logica applicativa. Quindi tutte quelle variabili che si riferivano, appunto, alla logica applicativa del gioco dovranno stare non più qui, ma nel modello. Quindi mi prendo questi attributi qui, segreto, tmax, nmax, tentativi fatti, sono tutti attributi del gioco, ok, e li sposto di là. Quindi, command x o control x su windows, vado sul modello e diventano attributi del mio modello. Adesso, ripeto, questo è un esercizio semplice, qui possiamo avere complicazioni a piacere. Ad esempio, nel libretto probabilmente avevate una lista, nel laboratorio di ieri e oggi magari avete una mappa. Quando vedremo i database, qui avremmo degli attributi che ci permetteranno in qualche modo di andare a leggere e scrivere da un database. Adesso, il controllore aveva due metodi principali. Il metodo per eseguire una nuova partita, per far iniziare una nuova partita, e il metodo per fare un tentativo. Partiamo dal più facile che è quello per iniziare una nuova partita. Anche il modello dovrà fornirci un qualcosa, un metodo che, appunto, faccia iniziare una partita. Qui vediamo che abbiamo due tipi di istruzioni. Le prime sono appunto di gestione di una nuova partita, e quindi queste mi viene bene portarle di là, nel modello. Le altre sono per la gestione dell'interfaccia. Questo è proprio il compito del controller, no? E quindi queste linee di codice è bene che stiano qui. È chiaro questo, questa divisione? Quindi prendo le mie linee di codice per la gestione della partita, e per adesso le taglio. Vediamo dove incollarle. Le incolliamo di qua sicuramente, però di qua ci servirà anche un metodo, giusto? Non posso incollarle qui a caso nella classe. Quindi avrò un metodo che chiamiamo nuova partita. E ragioniamo un attimo. Ci servono dei parametri per iniziare una nuova partita dal controller? Secondo voi? Non ho sentito? In teoria no. Una nuova partita non necessita di nessun parametro. E va bene. Dobbiamo ritornare in qualche modo un valore invece al controller? Ricordatevi che qui ora c'è questo step in più. Siamo nel modello e se dobbiamo dire qualcosa al controller, dobbiamo ritornarglielo. In questo caso dobbiamo dire qualcosa al controller? Scusami? Void, quindi niente. Non dobbiamo dire niente, non ritorniamo nessun valore. Mi sembra ragionevole. Per il momento proviamo a continuare così. Non ritorniamo niente. E dentro questo metodo incollo le righe che mi ero copiato. Quindi iniziare una nuova partita vuol dire tirare a casa un segreto, ed è qui, e reimpostare i tentativi fatti a zero. Tutto l'altro lavoro, il resto del lavoro, ad esempio mettere a zero anche la casella di testo, è tutto il lavoro del controller, perché agiamo sull'interfaccia grafica. Quindi torniamo un attimo di là. Abbiamo detto che questo lavoro rimane compito del controller. Altro problema che salta fuori. Vedete? Adesso il controller non conosce più Tmax. Non sa più che cosa sia. Perché? Perché è appunto una variabile del modello. Allora, tutte le volte che ci serve recuperare un'informazione dal modello, dobbiamo prevedere anche un metodo apposito, no? E qui, quando ci servono informazioni puntuali, cioè il contenuto, i valori degli attributi del modello, andiamo a definire dei GET, dei metodi di GET. Quindi torniamo di qui, posso farlo a mano, ma posso anche farmelo fare da Eclipse, quindi tasto destro, menu Source, Generate, Get Resetter, e vado a decidere quali attributi mi interessa, di quali attributi mi interessa sapere il valore nel controller. Beh, sicuramente abbiamo letto Tmax, perché l'abbiamo visto. I tentativi fatti direi anche di sì, perché dobbiamo aggiornare la casellina di testo. Il segreto? Non necessariamente, però, vabbè, sì, se vogliamo poi stampare il segreto quando la partita è finita. Quando la partita è finita o quando l'utente ha perso, diciamo, hai perso, il segreto era, e quindi può servirci. Nmax? Sì, anche se vogliamo dare dei messaggi all'utente dicendogli, guarda che l'intervallo è tra 1 e 100. Ok, genero. Lui ovviamente mi genera sia i get che i set, in questo caso assolutamente i set non li voglio, perché non ha senso che dal controller andiamo a modificare il modello. E quindi direi che è buona norma cancellare tutti i set. Questo? Questo? Ce n'è altri? No. Ok. È chiaro, no? Non ci serve fare una set, noi dal controller vogliamo solo leggere per modificare l'interfaccia grafica. E adesso di qua, dal controller, al posto di usare tmax, chiedo al modello quanto vale tmax. Quindi this.model.get tmax. Tutto chiaro? Questo primo metodo l'abbiamo già tradotto, no? Abbiamo spostato di là quello che bisognava spostare, lasciando di qua le informazioni relative all'interfaccia. Proviamo solo che tutto funzioni. Vedo che c'è un errore, non so dove. Ah, certo. No, non può funzionare più niente perché appunto qui nel controller stiamo ancora, nell'altro metodo, stiamo ancora facendo riferimento a delle cose che ora abbiamo spostato. Quindi è inutile provarlo. Dobbiamo andare avanti con la nostra traduzione. Quindi, qui, oltre al metodo nuova partita, dobbiamo prevedere anche un metodo per fare un tentativo. Tentativo. Ragioniamo su questo. Parametri. Ci sono in questo caso? Sì? No? Sì? Cosa, cosa mi serve sapere? Il numero, no? Il tentativo. Altro? C'era qualcuno che ha detto qualcosa? No. Direi nient'altro, no? Perché tutto il resto noi lo conosciamo. Il segreto ce l'abbiamo noi. Tmax e Nmax li conosciamo. Direi che il tentativo dovrebbe bastare. Dobbiamo, invece, dire qualcosa al controller. Quindi ragioniamo un attimo adesso sul valore di ritorno. Cosa dobbiamo dire al controller? Ok, il vostro compagno dice un booleano, immagino per dire al controllore se ho indovinato oppure no, in modo tale. Però, giustamente, il vostro compagno ha già detto tutto, può prendere il mio posto. Non basta, non basta, cioè potrebbe anche bastare, però se vogliamo dare il feedback che davamo, numero troppo alto, numero troppo basso, in caso sbagli, non ci basta un booleano. Perché potremmo ritornare true se ha indovinato, false se non ha indovinato, ma come facciamo a sapere se era troppo alto o troppo basso? Non lo sappiamo. Qualcuno ha un'idea su come farlo? Parlate forte, sono un po' sordo. Usando una stringa? Sì, potrebbe andare, però poi bisogna sempre controllare che la stringa... Dobbiamo sicuramente decidere una convenzione, che decidiamo noi a priori. La stringa potrebbe essere un'idea, forse, in modo più intuitivo, potrebbe essere un numero. Zero se ho indovinato, meno uno se è troppo basso, uno se è troppo alto. È ovviamente una convenzione che ci diamo noi, eh, dobbiamo conoscerla per poter andare avanti. Però un'idea potrebbe essere questa. Va bene. Cosa facciamo? Sicuramente potremmo pensare di, anzi, partiamo dalle if che contano. Vediamo subito se abbiamo indovinato il tentativo oppure no. Quindi if tentativo uguale uguale a segreto, abbiamo detto, ritorniamo zero. Per noi zero significa, ho indovinato. Else if tentativo minore di segreto, abbiamo detto, ritorniamo meno uno. Else return uno. In questo caso siamo sicuri che il numero sia maggiore. E va bene. Questa roba qui c'era già anche di là, eh? Solo che di qua, al netto che avevo fatto delle if separate con una return, ma non importa, la differenza è che qui andavo direttamente poi a modificare l'interfaccia grafica. Qui invece ritorno un valore al chiamante. Poi, altre cose da fare. Beh, se siamo qui, vuol dire che un tentativo l'abbiamo fatto e quindi dobbiamo incrementare il numero di tentativi fatti. Giusto? Adesso, cosa manca? Beh, allora, diciamo così. Parliamo un attimo dei controlli sui dati e sull'input dell'utente. Noi abbiamo, è stata una supposizione, eh? Abbiamo supposto già di ricevere un numero intero. Quindi, facendo questa supposizione, per noi, il controllo sull'input che sia effettivamente un numero, lo facciamo fare al controller. E questo può avere senso. Può avere senso perché è un controller direttamente sulla stringa che inserisce l'utente e quindi può farlo il controller. Il controller fa questo try catch. Se non è un numero, stamperà il messaggio d'errore, altrimenti ci passerà a noi modello direttamente già il numero. Ci sono però altri controller che può aver senso fare qui. Ad esempio, il controllo che il numero sia nell'intervallo corretto. Ok? Possiamo decidere, possiamo farlo qua, possiamo farlo nel controller. Supponiamo di farlo qui. E quindi potrei dire if, ovviamente prima di controllare se ho indovinato o no, if tentativo minore di 1 or tentativo maggiore di n max, cosa faccio? Anche qui ho varie alternative. Potrei ritornare 999 o un numero diverso da meno 1, 0, 1. Va bene, però essendo qui un errore, un modo più pulito di lavorare sarebbe quello di usare le eccezioni. Quindi, se il mio tentativo non è valido perché è in un range sbagliato, genero un'eccezione che poi verrà catturata dal controller, verrà gestita dal controller. True, new, qui posso generare o un'eccezione generica oppure posso essere più specifico, ad esempio utilizzando invalid parameter exception. C'è proprio una classe, figlia di exception, per modellare questo tipo di errore qui. Dopodiché se usate exception, runtime exception, va bene lo stesso. Tra parentesi posso anche già specificare il messaggio d'errore. Devi inserire un numero tra 1 e 100, n max, allora facciamolo bene, tra 1 e più n max. Ora vado a capo così si legge meglio. Ok? Devo importare ovviamente questa classe e va bene. Se capita questo, quindi se il numero è in un intervallo sbagliato, genero una nuova eccezione e automaticamente non vado avanti, il programma si pianta, questa eccezione se viene catturata bene, se no il programma appunto si pianta. Adesso possiamo migliorare un po' questa gestione errore, nel senso che per noi questo controllo ora è solo un controllo sull'intervallo, ma supponiamo poi in futuro di voler raggiungere altri controlli sull'input, perché ce lo richiede il programma. Se noi continuiamo con questa strategia qui, questa if potrebbe diventare chilometrica, ok? E poi magari questo controllo dell'input potremmo voler utilizzarlo in punti diversi del programma. Allora, un buon modo potrebbe essere definirci un metodo booleano, tentativo valido, che includa questo controllo ma che poi possa venire a essere riutilizzato tutte le volte che vogliamo. Quindi qui io potrei dire if tentativo valido, passandogli il mio tentativo, e richiamare questo metodo qui, che sarà l'unico punto che dovrò modificare se casomai dovrò aggiungere, modificare i miei controlli. Se ci vado sopra, eclipse me lo crea in automatico se voglio, eccolo qua sotto. E qui rimettiamo la if di prima, quindi if tentativo minore di 1 or tentativo maggiore di nmax, return false, return true. E' chiaro quello che ho fatto? Semplicemente no? Ok, allora prima avevo questo controllo sull'input del tentativo direttamente qui nella if del metodo. Però ho detto, se casomai poi nel corso del programma ho bisogno di aggiungere un ulteriore controllo, ad esempio, non lo so, oltre ad essere tra 1 e nmax, che ne so, il numero deve essere anche pari, non può essere dispari. Ok, e supponiamo anche che questo controllo io lo debba fare in più punti del mio programma, se uso questa, la tecnica di prima, io devo modificare tutte le if e sicuramente me ne dimenticherò qualcuna. Invece avendo un unico metodo che mi contiene i miei controlli, so che se devo modificare qualcosa lo modifico solo in quel punto lì. Ok, quindi ho spostato la if dentro a un metodo, metodo tentativo valido. Vedremo che poi lo modificheremo ancora. C'è qualche altro controllo, qualche altra funzionalità da aggiungere, secondo voi? Il numero dei tentativi, giusto, nel senso che dobbiamo decidere cosa fare quando esauriamo i tentativi. Anche qui ci sono varie possibilità, potremmo sempre continuare a usare le eccezioni, visto che abbiamo iniziato a usarle. Un'alternativa potrebbe essere questa. Vi ricordate che noi dal controller usevamo questo trucchetto. Quando iniziavamo una partita e avevamo sufficienti tentativi, abilitavamo la parte dell'interfaccia grafica per giocare. Viceversa quando o indovinavamo o esaurivamo i tentativi, quindi in caso di perdita, facevamo il disable dell'interfaccia grafica, non permettendo più all'utente di giocare, giusto? Allora, un modo per simulare questo nel modello potrebbe essere avere una variabile booleana in gioco o partita in corso, che ci indichi se effettivamente la partita è ancora in corso oppure no, perché abbiamo vinto o perso esaurendo i tentativi. E' chiaro? Quindi io qui mi definisco una variabile booleana in gioco, ad esempio, che a priori definisco come false. Quando è che la metto a vero? Quando inizio una nuova partita, ok? Quindi nel metodo nuova partita, oltre a reimpostare i tentativi fatti a zero, dico di spunto in gioco uguale true. La partita è in corso, è appena iniziata, ho ancora tutti i tentativi. Quando indovino, ad esempio, la partita è finita, quindi dico di spunto in gioco uguale false. Questo è il primo caso per cui una partita finisce. Il secondo caso è, o esauri, dimmi? Ok, se è sbagliato, entra in questa if e ritorna falso. Se è giusto, non entra nella if e ritorna vero. If tentativi, ah, if not, giusto. Così. Vero. Sì, ho fatto il contrario, scusate. Ovviamente lanciamo l'eccezione se il tentativo non è valido, quindi se abbiamo un false nella if. Ok? Chiaro questo, sì. Dicevamo, l'altra condizione per cui la partita finisce è quando esaurisco i tentativi. E quindi, se alla fine del mio metodo io ho esaurito i tentativi, la mia partita stop finisce. Quindi if di spunto tentativi fatti uguale uguale a tmax, di spunto in gioco uguale false. Qual è il problema? Certo, qui ci dice, se ora ve lo leggo, ci dice unreachable code. Cosa vuol dire questo? Che questo codice qui, Eclipse, si accorge che non potrà mai essere eseguito. Perché non potrà mai essere eseguito? Perché esce per forza. Perché in qualche modo in uno di questi rami della if ci entrerà, per forza, perché c'è un else, e quindi verrà chiamata una return e quindi non potrà mai arrivare qui. D'accordo? Quindi questo codice non lo posso mettere qui, lo devo mettere prima di controllare il tentativo. A questo punto però la partita finisce se tentativi fatti è uguale a tmax meno 1. Ho sbaglio qualcosa? No, dovrebbe funzionare con tmax. Correggetemi se sbaglio. Supponiamo di essere al settimo tentativo, incremento di 1, andiamo a 8, che è il massimo. La partita finisce, non potrò più continuare, ma comunque, cioè, al turno successivo non potrò più continuare, però controllo ancora il mio tentativo. Mi sto prendendo qualcosa? Però ora vi chiarisco a cosa serve questa in gioco. Adesso questa in gioco non l'abbiamo ancora usata, ma noi possiamo dire, all'inizio del metodo tentativo, controllo, controlliamo il valore di questa variabile, e se non è in gioco, if not in gioco, genero un'eccezione, perché non posso giocare, la partita è finita. Quindi throw, new, anche qui c'è un'eccezione, diciamo così, apposta per questi casi, si chiama illegal, se non mi sbaglio, state exception. Siamo in uno stato illegale del sistema, la partita è già, è terminata, in realtà gli diciamo anche hai perso. E' chiaro cosa faccio? Supponiamo, rimettiamoci nel caso di prima. Siamo al settimo tentativo e ne abbiamo ancora uno, ok? L'utente clicca sul bottone tentativo, entriamo in questo metodo qui. Siamo ancora in gioco, la nostra variabile in gioco è ancora true, quindi non generiamo nessuna eccezione, andiamo avanti, aumentiamo i tentativi, passiamo a 8, ok? Impostiamo il nostro in gioco a false, vuol dire dal turno successivo la partita sarà finita, e controlliamo il mio tentativo. Se ho indovinato all'ultimo tentativo, perfetto, ritornerò 0, di là se ne accorgerà, ottimo. Se ho sbagliato, gli ritornerò meno 1 o 1, il controller mi dirà hai sbagliato, io riproverò a giocare, e lui mi dirà purtroppo la partita è terminata, hai perso. Questo può essere un modo di risolvere questa cosa, ma ovviamente ce ne possono essere anche altri, eh? Va bene, cerchiamo di, direi che abbiamo tutto adesso, cerchiamo di collegare questo metodo adesso al controller. Torniamo di qua. Dunque, il controllo sul, sul fatto che l'input sia un numero, abbiamo detto, lo lasciamo qui. Quindi se arriviamo a questo punto qui siamo sicuri che tentativo contenga un numero. Il controllo 2 invece l'abbiamo messo di là, quindi lo cancello. Tentativi fatti anche, facciamo così. Cancelliamo, no, niente. Poi modifichiamo. Abbiamo un tentativo numerico, deleghiamo al modello il fare il tentativo, recuperiamoci il risultato, controlliamo il risultato. Int risultato, uguale uguale a dis.model.tentativo di tentativo. Sì, ovviamente non uguale uguale, ma uguale. Quindi chiedo al modello di fare il tentativo, lui mi restituirà meno 1, 0, 1. Se il tentativo a questo punto non sarà uguale al segreto, che noi non conosciamo, ma se il risultato è uguale a 0, vorrà dire che ho vinto. Quindi lasciamo, ha indovinato con questo punto. Tentativi fatti non lo conosciamo più, ma abbiamo fatto il metodo get apposta, quindi dis.model.get.tentativi fatti. E tutto rimane uguale, andiamo a capo, non così, ma così. Possiamo anche lasciare questa parte che ci disabilita e abilita l'interfaccia grafica, perché è comunque un compito relativo all'interfaccia grafica, quindi va bene che rimanga qui. E return, va bene. Questa parte qui la togliamo perché la gestiamo in un modo diverso, abbiamo usato le eccezioni, facciamo tutta la parte sul risultato, magari unisco le if con delle else così diventa più chiaro, tolgo questa return, else, risultato uguale uguale a meno 1, questo vuol dire valore troppo basso. Allora mi copio questa set text qua. else, non ho bisogno di specificare nient'altro, perché in questo caso sarà sicuramente, vabbè, se vogliamo essere precisi diciamo anche risultato uguale a 1, else if, ovviamente, else if risultato uguale uguale a 1, no, siri, no. E in questo caso il tentativo sarà troppo alto. Ora è chiaro che noi sappiamo che per costruzione il nostro metodo ritornerà solo 3 numeri, quindi questa if qua è inutile, diciamo così, perché per costruzione o ritorna 0 o meno 1 oppure 1. Quindi controllo il risultato e poi aggiorno i tentativi rimasti. Integer.toString, tmax non lo conosciamo più, neanche tentativi fatti, ma ripeto abbiamo i metodi get che ci siamo creati. Quindi dis.model.get tmax meno dis.model.get tentativi fatti. Cosa manca? Le eccezioni. Abbiamo usato appunto le eccezioni come metodo per comunicare quando la partita finisce, perché l'utente ha perso, oppure quando il numero non è nell'intervallo corretto. Abbiamo scelto le eccezioni, così abbiamo tenuto, diciamo così, una convenzione pulita, nel senso che ritorniamo un numero nel caso tutto vada bene, ritorniamo un'eccezione nel caso ci sia un problema. Allora, come facciamo a catturare le eccezioni? Col try catch, no? Quindi avrò la mia variabile risultato, ma poi invoco il metodo all'interno di un try catch. E che cosa catcho? Le due eccezioni che ho deciso di utilizzare, no? Abbiamo detto sono invalid parameter exception, chiamiamola IP, ma anche illegal state exception, IS. Quindi tutte le volte che il mio programma genererà un invalid parameter exception che devo importare, ricadremo in questo blocco catch qua, in cui metteremo il codice per gestire questa eccezione. Viceversa, se capita un illegal state exception, la cattureremo, andremo in questo blocco di codice qui, dove qui avremo il codice per gestire questa eccezione. Allora, se abbiamo un invalid parameter exception, vuol dire che c'è un controllo dell'input che non è passato, il tentativo non è valido. Quindi scriviamo sull'area di testo, txt risultato, punto set text, possiamo direttamente recuperarci il messaggio che avevamo definito con l'eccezione, ip punto get message. Che cos'è questo get message? Mi restituisce semplicemente questo messaggio qui, che avevo messo nel costruttore dell'eccezione. Ho già fatto di qua, evito di riscriverlo. Quindi stampo il messaggio d'errore, è il caso di andare avanti se il numero non è corretto? No, non è il caso di provarlo perché il numero non è corretto. Return, esco dal metodo. Se siamo invece in uno stato illegale, vuol dire che abbiamo esaurito i tentativi e abbiamo perso. Anche in questo caso, diciamo, txt risultato, punto set text, is punto get message, messaggio che abbiamo definito di là, hai perso. Sicuramente non andiamo avanti, quindi return. In più possiamo disabilitare la parte di interfaccia grafica che ci permette di fare i tentativi, perché ho perso, non posso più farne altri. Quindi hbox tentativi, punto set disable, true. Domande, dubbi? Abbiamo, di nuovo, ripeto ancora una volta, abbiamo usato le eccezioni per i casi in cui ci sono dei problemi, diciamo così, e quindi in caso di eccezione ci fermiamo qua. Se tutto va bene, invece, controlliamo il risultato e usiamo questa convenzione del meno 1, 0, 1 per sapere dal modello come è andato il nostro tentativo. Proviamo se tutto va. Occhio perché ho aspettato un po' troppo per provare il programma. Io vi consiglio sempre di, ogni volta che fate, aggiungete un qualcosa di provare, tutte le volte il vostro programma, non aspettate la fine per provare tutto, perché sennò tendenzialmente non funziona mai niente. Vediamo se siamo fortunati. Clicco su nuova partita. 8 tentativi rimasti. Proviamo. 50, no, c'è qualcosa che non va, ho subito perso, vedete che il mio consiglio era furbo, abbiamo aspettato troppo a provare il programma. Allora, proviamo a fare un po' di debug insieme, è utile anche per questo. Per chi non lo sapesse usare, è fondamentale il debug. Allora, mettiamo un breakpoint sul metodo che mi interessa. Come faccio a mettere un breakpoint? Clicco due volte sul numerino della riga. Ad esempio qui. Forse. No, non me lo fa mettere, perché? Va bene, lo metto nel modello. Mi interessa controllare il metodo tentativo, che è quello che mi ha dato dei problemi. Quindi metto un breakpoint, cliccando qui due volte sul 25, qui. E poi lancio il programma in modalità debug, che non è il play verde, ma è l'insettino vicino sulla sinistra. Sempre verde, ma è un insetto. E lo lancio. Il programma parte, però si fermerà poi nel breakpoint quando quel metodo verrà eseguito. Quindi clicco su nuova partita, rimetto 50, clicco su prova e vedete il programma si ferma lì dove ho messo il breakpoint. E io da questo punto in avanti posso andare avanti step by step. Allora, dovremmo essere in gioco, però se vado sopra la variabile in gioco vedo che è falsa. E ho già trovato il mio problema, ok? Dovrei essere in gioco, in realtà non lo sono. E quindi di conseguenza lui mi genera l'eccezione il legal state. Perché non sono in gioco? Perché la mia variabile è false? Boh! Qui la metto a true, vai! Forse perché in gioco la metto a true, il problema è che questo metodo non l'ho mai richiamato, ok? Quindi non ho mai detto al modello fai partire una nuova partita. Allora torno nel controller e in do nuova partita in effetti manca. Dis.model.nuova partita. Riproviamo un attimo. Nuova partita. 50. Troppo basso. 75. Troppo basso. Ora gioco male perché voglio arrivare al... Al... Ai perso. Ho ancora un tentativo. Adesso ho zero tentativi. Se provo ancora una volta lui dovrebbe dirmi hai perso. Hai perso. Ok? Sembra funzionare. Domande siete riusciti? C'è qualcosa di non chiaro? Vorrei proporvi ancora una cosa da aggiungere a questo esercizio. Quindi se non ci sono domande ve la propongo. Ed è una delle estensioni. In particolare... L'ultima. Il programma impedisce che l'utente possa inserire più di una volta lo stesso numero. Idee. Adesso per come è strutturato il gioco io potrei giocare inserendo sempre lo stesso numero. Ok. Il vostro compagno dice una lista in cui memorizzo mano a mano giusto i tentativi e poi faccio il controllo che questa lista non contenga... Ok. Quindi prendo il numero e vado a vedere. C'è già nella lista? Se c'è già non è valido. Se invece non c'è può essere un'alternativa. C'è qualcosa di meglio? Va bene. È la lista però. Non ho sentito? Un vettore. Un vettore, sì. Cerchiamo di parlare in linguaggio Java più che un vettore? Un array, sì. Va bene. È una lista quindi. Ok. Una mappa. Un set. Un set forse. L'unica cosa che cambia dalla lista è che è un po' più efficiente. Ok. Però per il resto anche la lista andava bene. La mappa mi sembra un po' esagerata nel senso non ci serve una mappa, noi basta sapere se un oggetto singolo, quindi un numero, c'è già o non c'è. E quindi ci basta direi una collezione di elementi singoli. Va bene? Se tutti concordiamo che il set sia una buona scelta, nel mio modello allora mi definisco un set di che cosa? Di interi, no? Sono numeri tentativi. Adesso, di nuovo, ripeto, tanti errori sono, anche li ho visti in laboratorio, spesso sono delle null pointer exception, perché ci dimentichiamo di istanziare le nostre variabili, i nostri attributi. Anche qui, adesso, tentativi l'ho solo definito, ma è null adesso, non ne ho ancora fatto la new. Infatti ho usato l'interfaccia, non la classe. Dove lo creo questo set? Allora, potremmo avere due, o in nuova partita forse gli dà più furba. L'altra idea poteva essere, lo creo nel costruttore del modello, che adesso non ho, ma potrei facilmente definirlo. Potrei crearlo qui, ad esempio, tentativi, uguale, new, hash set, integer, e va bene. Qual è, devo importare hash set, ok. Qual è la, diciamo così, il possibile problema che si potrebbe presentare con questa strategia qui? Cerco sempre di anticipare problemi che ho già visto. Creandolo qui, lo creiamo una sola volta, giusto? Nel costruttore del modello. Allora, se lo creiamo una sola volta, dobbiamo poi sempre ricordarci di pulirlo tutte le volte che inizia una nuova partita, perché altrimenti il set contarebbe gli elementi, i tentativi della volta precedente, ok. L'alternativa che diceva il vostro compagno è più furba perché se noi, ops, lo creiamo in nuova partita, ogni volta lo sovrascriviamo. E quindi questa, diciamo così, pulizia avviene in automatico. Tutte le volte lo distruggiamo e lo ricreiamo. Quindi forse qui è il punto più, che ci evita problemi futuri. Quindi ho creato questo set. Adesso in questo set, tutte le volte che faccio un tentativo valido, lo vado ad aggiungere. Quindi, oltre a incrementare i miei tentativi fatti, mi salvo da parte anche il mio tentativo. Dis.tentativi.add tentativo. Tentativo. E poi, per come ci siamo immaginati nella nostra soluzione, userò questo set per controllare che io non abbia già fatto quel tentativo. E qui ci viene molto utile il metodo che ho fatto prima, perché ho già un punto in cui posso controllare se il mio tentativo è valido oppure no. Ed era questo mio metodo booleano. E quindi posso semplicemente modificare qui e in automatico, in qualunque parte del mio programma io debba controllare il mio tentativo, basta modificare, aggiungere una cosa a questo metodo. Quindi oltre a controllare che il mio tentativo sia tra 1 e nmax, posso anche dire or tentativi.contains.tentativo. Fatemi andare a capo. Quindi o il mio numero è fuori range, oppure se il mio numero è già contenuto nei miei tentativi, ritorno falso. Altrimenti il ritorno è vero. È chiaro? Qui il set, con il set questa contents è più veloce rispetto alla lista. Di nuovo, con un insieme di valori così piccolo non ci accorgiamo assolutamente della differenza, e quindi va benissimo usare anche una lista, però a rigor di logica il set mi sembra più performante. Magari miglioriamo anche un po' il messaggio di errore. Quindi devi inserire un numero tra 1 e nmax, più che non hai ancora utilizzato. Così. Facciamo una prova. Lancio. Nuova partita. Provo a giocare col 50. Troppo alto. Provo a rimettere il 50 e rigiocare. Dovrebbe bloccarmi. Prova. Ok. Mi ha dato il messaggio d'errore, che non hai ancora utilizzato. I tentativi rimasti sono rimasti a 7, ed è giusto. E quindi sembra funzionare. Perché nel mio set avevo già salvato il 50. La contents mi ritornerà vero. Quindi contiene già, di conseguenza, blocco. Allora, vi faccio vedere l'ultima cosa. Relativa a GitHub. L'esercizio l'abbiamo finito. Ed è il concetto di branch. Non so se l'avete visto nella lezione che avete fatto col professor Corno. Magari ve li accennati brevemente. Allora, supponiamo... Io sono partito dal mio indovina numero precedente. Supponiamo di non voler perdere quello che avevo fatto. Ok. Non volerlo sovrascrivere. Allora, il concetto di branch mi permette di creare, diciamo così, un universo parallelo che parte da quello che c'era e che posso modificare senza intaccare quello che avevo fatto. Come se duplicassi il mio progetto e il mio progetto potesse andare avanti appunto su due branch separati. Useremo i branch ad esempio per le soluzioni dei laboratori, degli esami, eccetera. Nel branch master ci sarà il progetto base da cui partirete. Nel branch soluzione invece ci sarà la soluzione dell'esercizio. Allora, come faccio a creare un nuovo branch? Faccio tasto destro sul progetto, menu team, switch to e clicco su new branch. A questo branch posso dare un nome, chiamiamolo refactoring mvc, per dire che abbiamo tradotto il nostro esercizio in mvc. Posso configurare questo branch per fare i push e i pull successivi, quindi il mio push lo voglio fare su questo branch qui, non su quello prima, non sul master. E clicco su finish. Vedete adesso sul progetto in alto a sinistra viene scritto refactoring mvc, sono nel branch che ho appena creato, non più nel master. Quindi andrò a sporcare, diciamo così, modificare il mio branch refactoring mvc senza toccare il master che è quello da cui siamo partiti. E per il resto funziona allo stesso modo. Io faccio tasto destro, menu team, commit, il doppio più per portare sotto tutti i miei file, un messaggio, commit e push. Se adesso vado sul sito di GitHub, vedete che qui adesso mi da che ci sono due branch. Se ci clicco sopra abbiamo il master, che è quello da cui siamo partiti, che è stato modificato 14 giorni fa e non l'abbiamo più toccato. E poi c'è il refactoring mvc che ho appena invece modificato 21 secondi fa. E quindi io posso anche clonarmi, ad esempio, solo quel branch lì. Oppure posso clonarmi tutto il progetto e poi dall'interno di Eclipse passare da un branch all'altro e decidere cosa modificare e dove. Quindi tendenzialmente, ad esempio, nei laboratori avrete, adesso vado su un laboratorio a caso, tipo l'ultimo. Lab 02. Adesso c'è solo un branch che è il master, che è il progetto base da cui partite. Tra una settimana farò un nuovo branch con la soluzione. Quindi qua troverete due branch con un secondo branch soluzione all'interno del quale troverete la soluzione. Va bene, io ho concluso la mia lunga carrellata. Per chi c'è ci vediamo in laboratorio dopo, altrimenti la prossima settimana. Grazie. 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 Grazie.